ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella di lasciare un like se volete anche un super grazie oggi vi spiego come riscattare il proprio la propria clip che rappresenta tutte le vostre statistiche da quando avete cominciato a giocare a Call of Duty Warzone molto semplice c'è il link in descrizione andate su questa pagina scendete fino a giù c'è questo link da fare copia e incolla visto che non ci posso cliccare sopra fate incolla e fai l'indirizzo e qui inserite il vostro id nome e giocatore se non sapete se non volete andare sul gioco e vedere il vostro id perché vi scocciate allora c'è il se hai bisogno di aiuto per trovare il tuo id qui del gioco fate clicca su questo profilo così questo id lo trovate qui adesso faccio informazioni basiliari questo qui è il mio id ecco qua su eccolo qua non ho capito questa parte da 30 ottobre ho iniziato non ho capito questa parte che dice che alla fine io ho fatto mi sembra ecco 5367 tutte queste cose qua ti fa vedere le armi più usate le skin tutto e poi fate scariche ok scaricate eccolo qua quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao grazie a tutti